la madre l'ha trovata senza vita una volta rientrata a casa dopo aver fatto alcune commissioni aveva solo 42 anni Chiara Cantaloni ricercatrice senior all'Eurac di Bolzano originaria di Borgo Varsugana e da tempo residente a Trento il dramma ieri mattina nell'appartamento della donna in città ad ucciderla e strapparla all'affetto dei suoi cari è stato un malore improvviso Chiara era una persona estremamente solare una donna unica aveva superato con forza e con coraggio gli ostacoli che la vita le ha messo davanti raccontano le persone vicine a mamma la 42 n era molto attiva nel mondo del volontariato Grazie 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 Grazie